Allora, oggi volevo parlarvi un pochino di algoritmi sui cicli e sui cammini minimi, ma diciamo così lo facciamo nel tempo che ci rimane, dopo aver speso un po' di tempo a parlare praticamente dell'esame che si sta avvicinando, come sapete, e delle simulazioni di laboratorio che faremo in queste due settimane. Quindi come avrete visto, spero dagli avvisi o dal messaggio su Telegram, il laboratorio presso cui prima dell'incendio, prima del Covid, eccetera, eccetera, si faceva esercitazione è ritornato in funzione, è ritornato disponibile e quindi useremo quello per fare l'esame al netto di una verifica che faremo in questa settimana. Nel senso che queste due settimane, quindi da domani mercoledì, i turni di domani mercoledì e i turni di martedì e mercoledì della settimana prossima, saranno le ultime due esercitazioni di laboratorio nelle quali faremo la cosiddetta simulazione d'esame. Questo è uno dei motivi per cui non abbiamo ancora pubblicato il testo delle esercitazioni di domani perché ve lo pubblichiamo sul momento, ok? Nelle stesse modalità in cui so che questo weekend purtroppo non vi abbiamo potuto intrattenere nel provare a fare laboratorio ma il piano è questo che ho cercato di scrivere qua, spero di averlo scritto giusto. Domani, mercoledì, squadra 2, squadra 1 rispettivamente, andiamo al laboratorio LEP, spero che abbiate più o meno capito dove si trova, è un edificio verde che se dopo l'Eule 29 di fronte al bar, uscendo dal bar, quello del corridoio lungo, ve lo trovate lì, salite al primo piano, tanto se vedete facce di voi disperse vuol dire che siete nella zona giusta. È un laboratorio che ha una quarantina di computer, quindi può darsi che non ci sia un computer a testa durante le simulazioni, in quel caso magari mettete in due, ma serve a due scopi, uno familiarizzarsi con l'ambiente, cioè dove si trova e con il software come installato, quindi dove ha messo Eclipse, eccetera, eccetera. Quindi noi faremo una prima simulazione d'esame, per favore rispettate le squadre perché i posti a sedere sono un po' contati questa settimana e una seconda simulazione d'esame la settimana successiva. Le lezioni del lunedì a seguire, quindi la settimana oggi abbiamo la simulazione numero 1, il 24 e il 25, domani dopo domani, il lunedì prossimo che cade il 30 maggio, lo dedichiamo a risolvere in aula questa prima simulazione d'esame. Poi la settimana prossima, 31 e 1, faremo una seconda simulazione d'esame che verrà risolta in aula il 6 giugno, lunedì, sempre nelle tre ore del lunedì. E con questo è finito il corso. Quindi adesso in avanti faremo queste due simulazioni d'esame e le relative soluzioni in aula per vederle insieme. Cos'è la simulazione d'esame? Sono due esercizi uguali a quelli dell'esame, quindi cercheremo di mantenere anche i tempi, anche le modalità di svolgimento, che adesso vi racconto, e nelle quali introdurremo nella prima e nella seconda, chiaramente una sarà su un algoritmo grafi più ricorsione, l'altra sarà grafi più simulazione, come sono fatti i nostri temi d'esame, e nelle due simulazioni introdurremo due database nuovi, che non abbiamo ancora visto nei laboratori o nei temi dei temi precedenti. Questi due database saranno usati per tutto l'anno, quindi negli appelli successivi si userà o l'uno o l'altro di questi due database che avremo visto nelle simulazioni, quindi conviene prenderci confidenza. Normalmente vi diciamo il giorno prima dell'esame quale database verrà usato nell'esame stesso, ovviamente solo il database, non vi diciamo cosa vi chiederemo. Quindi così avete la possibilità anche di prepararvi tutto prima. Allora, come si svolge l'esame? Allora io qua avevo preparato qualche anno fa questo flowchart che ritornando in presenza, diciamo così torna di nuovo attuale. Allora l'esame sarà, adesso faremo poi correggere il portale, dovrebbero scrivere, c'è scritto un orario sul portale, non guardate quell'orario perché l'esame dovendo fare più turni di laboratorio si svolgerà lungo tutta la giornata, ok? E quindi scadenzeremo i turni. Io dividerò poi i turni sulla base delle persone prenotate, se ci fossero persone che hanno sovrapposizione di esame, quindi magari un altro esame, chiaramente non del terzo anno, perché questo non succede, ma un altro esame lo stesso giorno o cose di questo genere, me lo dice e io riesco a spostarvi da un turno all'altro, non è piacevole fare due esami in un giorno, ma è sempre meno peggio che saltare un esame. Me lo dite se avete delle esigenze particolari sui turni, esigenze non del tipo io al mattino devo dormire, ok? Esigenze serie, altrimenti sarebbe io il primo. Me lo dite al giorno della scadenza degli esami, inutile che mi mandatela mai adesso che poi la perdo, ok? Quindi sei giorni prima dell'appello, quando si chiudono le scadenze, a quel punto in quei giorni io lì farò gli elenchi e voi mi mandate messaggi dicendo guarda che c'è questa esigenza. Avrete visto che il secondo appello che inizialmente era ipotizzato per il 15 l'abbiamo poi spostato al 14 luglio e a questo punto non dovrebbe più sovrapporsi con gli esami di nessuno, è stato un disguido interno. Ok, come funziona? Allora io vedrò un orario di appello, in cui faremo l'appello, sempre al laboratorio LEP, 20 minuti prima dell'inizio della prova, ok? Vi faccio entrare, vi sedete e accendete il computer, fate il login al computer eccetera eccetera. Sui laboratori dell'EP avrete chiaramente entrate col vostro account, ciascuno deve entrare col proprio account, aprire clips, aprire un workspace nella propria cartella, purtroppo Eclipse quando cambia utente nel computer all'altro si ricorda il workspace dell'utente prima, in cui però non potete scrivere e quindi crea casino, quindi c'è un po' di gestione di Eclipse da fare su quei computer lì, che per questo abbiamo queste due simulazioni d'esami così cominciamo a pratichirci, ok? Cosa fate in questi 20 minuti? Controllate che ci sia tutto questo computer, io vi consiglio prendetevi un progetto semplice di prova e provate a farlo girare, importare un database eccetera eccetera. I database come vi ho detto sono gli stessi delle simulazioni, quindi il 99% saranno già caricati su quella macchina, non è necessario importarli. Potete durante l'esame consultare tutto il materiale che volete, potete anche consultare risorse su internet, ok? Quindi vi potete portare dietro gli esercizi risolti sia stampati che su chiavetta, veli copiate su computer e siete perfettamente liberi. L'unica cosa che non potete fare è durante la prova comunicare, scambiarvi file, parlare eccetera, ma il materiale che trovate, che avete a disposizione, quello dei laboratori, le soluzioni, insomma la ricerca su internet così come sarebbe in un contesto reale è a vostra disposizione, quindi non vi priviamo artificiosamente di conoscenze o di informazioni che potrebbero, cioè nella realtà uno ci potrebbe fare affidamento e ci abbiamo fatto affidamento per tutto l'anno, ok? Quando passate questi 20 minuti, 20 minuti è un tempo indicativo, normalmente è il tempo che ci vuole perché tutti siano posto, nel senso che poi c'è sempre qualcuno che ha qualche problema nel pc eccetera, o non si ricorda la password, queste cosette qua, diciamo così simpatiche, il giorno dell'esame. A questo punto vi chiediamo di mettere via tutte, chiavette, telefoni eccetera e da quel momento in avanti diciamo così parte l'esame. Parte l'esame e da qua ci sono due ore di tempo, dall'inizio dell'esame alla fine del tempo di esame in cui lavorate tranquillamente. Qui c'è scritto distribuzione del testo esame cartaceo, in realtà non è vero, abbiamo usato da quando è iniziata la pandemia abbiamo trovato questo meccanismo che si chiama GitHub Classroom che è un meccanismo per fare di fatto un clone automatico dei progetti. Quindi anziché farvi il fork come facevamo nei laboratori e poi il clone, dovete inserire, ma vi diamo poi le istruzioni, lo proviamo domani, entrare con un link che vi diamo e GitHub vi crea automaticamente un repository privato, quindi che potete vedere solo voi e noi docenti. All'interno di quei repository lavorate e alla fine delle due ore fate commit su quei repository. Dentro il repository ci sarà ovviamente lo scheletro di progetto, il progetto base e il testo del laboratorio. Quindi il testo anziché essere distribuito in cartaceo vi diamo un link, c'è una procedura semplicissima di due click, alla fine vi porta un repository e voi vi fate il clone sul vostro computer, nel workspace che vi siete selezionati del progetto stesso. Lo importate in Eclipse, qui parla di importazione di database nel caso in cui non ci sia già su quel computer, altrimenti ci sarà già, è un passo che evitate e semplicemente lavorate tranquilli per due ore, con solita assistenza, solita sorveglianza, qui c'è sito controllo feroce soprattutto sul fatto che non apriate programmi per comunicare o altre cose. Alla fine delle due ore, quindi voi finite le due ore, fate un commit, un push del vostro progetto, così rimane congelata l'ora di consegna e siamo sicuri che quello è il programma che avete realizzato nelle due ore. Poi faremo le verifiche, ricordate che l'esercizio 1 viene corretto seduta stante e l'esercizio 2 viene corretto invece in seguito. Per correggere l'esercizio 1 seduta stante vi chiediamo di uscire dall'aula allo scadere del tempo, quindi finito il tempo fate commit e andate fuori. Sigaretta, caffè, pausa in bagno, quello che volete, 10 minuti di pausa e poi cominciamo a fare le verifiche che non è un vero proprio orale perché non ci stiamo a fare domande ma verifichiamo che il programma risolva correttamente il punto 1 dell'esercizio. Quindi vi chiamiamo 1 a 1, vi chiediamo di entrare e andate al vostro pc, fate partire il progetto, lo guardiamo insieme, noi facciamo le prove, inseriamo dei dati, insieme vediamo se funziona. Se ci fosse qualcosa che non funziona perfettamente ma qualche piccola imperfezione possiamo dare rapidamente un'occhiata al codice ma quella non è chiaramente una correzione estesa. Magari ti accorgi che i risultati sono sbagliati, capisci che hai scritto minore anziché minore uguale e vabbè allora a questo punto il primo punto normalmente vale, il primo esercizio vale normalmente 21 punti, quindi c'è un margine 3 punti di qualche piccola imperfezione sul primo esercizio per avere il compito sufficiente. E quindi qualche piccola imperfezione la possiamo tollerare in questa fase e la vediamo seduta stante. Se vediamo che il programma invece ha dei problemi più seri, ne riparliamo con calma, cioè l'appello successivo. E quindi se funziona, cioè nel caso, guardiamo prima il caso dello sfortunato, in cui il primo punto non funziona o ha degli errori che sono al di là di quei due o tre punti di margine che possiamo giocarci, allora vabbè, niente. Altrimenti sapete che avete passato l'esame, lì vi diamo un voto che è tra 18 e 21 dicendo questo è il voto del primo punto e poi però dovremo correggere il secondo punto. Allora qui c'è scritto esportare il prodotto su zip in realtà non c'è più perché lo facciamo su Classroom, quindi ce l'abbiamo già direttamente su GitHub, noi verificheremo anche chiaramente la data in cui avete fatto il push che sia corretta. Se abbiamo, a volte capita durante la correzione che modifichiamo qualcosa per vedere, no? Ah sì ho dimenticato qui un punto e virgola, ok, ma noi anche se modificassimo il progetto mentre lo correggiamo abbiamo comunque salvato la versione consegnata, quindi il guitar ci aiuta anche molto in questo. E quindi noi a questo punto vi salutiamo perché qua dobbiamo i tempi abbastanza contingentati per riuscire a far passare tutti e ci guardiamo con calma il vostro progetto soprattutto con il focus sulla correzione del punto 2 dell'esercizio. Punto 2 che valutiamo dal punto di vista algoritmico, quindi mentre il punto 1 è molto semplice, standardizzato e quindi una valutazione quasi sempre on off, no? Sì funziona o non funziona, su punto 2 c'è una valutazione di merito, quindi anche se non funziona andiamo a vedere, chiaro che se funziona è 30, ma se anche non dovesse funzionare andiamo a vedere, potete prendere comunque anche un buon voto se avete fatto i ragionamenti corretti, magari in un algoritmo di ricorsione uno c'è un caso particolare che ha dimenticato, in quel momento d'esame non gli è venuto o ha dimenticato un'istruzione, andiamo a valutare più l'algoritmo il ragionamento che avete impostato, la scelta delle strutture dati eccetera eccetera, ok? Quindi ci vorrà un po' di tempo che è proporzionale chiaramente al numero di persone che ha superato il primo punto, cioè il numero di compiti da correggere, nei quali voi non dovete far altro che aspettare i risultati che usciranno, no? Ma visto che siete al secondo semestre del terzo anno, sapete già se avete passato l'esame o no, e quindi per questioni di laurea, scadenze, tirocini eccetera eccetera, almeno sapete se quell'esame lì, no? Dovete contarlo oppure no. Ci fossero dei problemi con le scadenze di laurea, adesso non so esattamente dove sono messe le date per chi deve laurearsi adesso e quindi deve aver superato l'esame nel primo appello, le gestiamo, quello non è, l'abbiamo sempre gestito tutti gli anni, quindi ci sarà sempre un po' d'ansia da parte vostra che vorreste sempre che tutto succedesse in tempo zero, ma succederà, quindi non abbiamo mai lasciato nessuno a piedi. I tempi sono sempre molto stretti dal primo e secondo appello perché 15 giorni passano ma in realtà il lavoro da fare è parecchio. E tutto qua, nel senso che è lo stesso tipo di lavoro che facciamo normalmente in laboratorio, ok? C'è un pochino in più la meccanica di usare i clip su quel computer e c'è in più la meccanica di usare questo GitHub Classroom per la consegna del compito, che però fatto la prima volta è fatto per sempre. Dubbi, domande? C'è una cosa che ho dimenticato? Ok, ma questo è ciò che succederà nei due appelli d'esame. Normalmente il primo appello, in base ai numeri di solito facevamo tre turni, quindi iniziamo alle 8 del mattino e finiamo alle 7 di sera, giù di lì, perché ogni turno dura tra ore e mezza perché ci vuole due ore di lavoro, l'appello per entrare e un'ora per fare le correzioni, è vero che siamo in quattro e dovremmo fare abbastanza in fretta, ma quindi però appunto quando si chiuderanno le prenotazioni noi pubblichiamo l'elenco, di solito divido l'elenco alfabeticamente e poi estraggo a sorte chi passa nel primo blocco, chi nel secondo, chi nel terzo. Ok? Ok. Allora, se poi avete domande, se vengono dubbi, domande, ci vediamo domani in laboratorio oppure ce le fate sul gruppo. Ecco, citerrei che almeno in una delle due esercitazioni provaste effettivamente, provassero tutti, non parlo solo con chi è presente, ma con tutti, a venire all'app così il giorno dell'esame preferirebbe non avere problemi di persone che non sanno dove si trova Eclipse, non sanno dove si avvia MySQL, non si ricordano la password, non hanno creato l'account sul PC, eccetera, eccetera. Ok? Tutto ciò che riusciamo a risolvere nelle prossime due settimane è guadagnato. Ah, ovviamente non ho menzionato il fatto che il resto dell'ultima settimana, nell'ultima settimana non ci sarà né il laboratorio né la lezione del mercoledì. Ok? Con lunedì chiudiamo, così avete tempo di studiare questa e altre materie senza andare a fare cose fino all'ultimo giorno. Ok. Magari taglio il video.